Vedi, hai visto? Questo è dal film Totò cerca casa, esattamente, vediamo, vediamo, vediamo di nuovo, vediamo. Bravi, bravo. Occiucciotto, come si chiama? Ah, è arabesco questo. Il brano si chiama arabesco, hai capito? Arabesco. E quindi vi lascio a lui perché io non so capace come mi devo andare. Chiappononno. Grande Gigi! Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.